benvenuti ragazzi bentornati sul canale di giochi next gen oggi siamo qui su fifa 16 ma come vi avevo detto nello scorso video siamo con una novità ossia ragazzi la ramsey death challenge che cosa sarebbe? allora ragazzi semplicemente è questa praticamente se voi insomma seguite il mondo del calcio sapete benissimo che ogni volta che ramsey segna il giorno dopo muore un vip è già successo 25 26 volte c'è una lista con tutti i vip che ha ucciso tra i gret con i suoi gol ragazzi ho pensato di fare questa cosa anche su fifa 16 perché presumo che nessuno l'abbia già portata quindi dovrebbe essere una novità assoluta allora siccome il fifa 16 ovviamente non esistono i vip virtuali ma i vip sono i calciatori io ora partirò con questa squadra che è una 451 e vedete ramsey è la punta ogni volta che ramsey farà un gol un giocatore virtuale morirà e quindi passerà di grado verrà sostituito quindi che cosa accadrà che ogni volta che ramsey farà un gol il giocatore oro raro passerà al giocatore oro normale a giocatore argento e infine al giocatore di bronzo perché questo accadrà per ogni ruolo così l'è l'unico che è if quindi così diciamo che avrà ne ha sostituito poi da un giocatore oro semplice poi c'è scusate oro raro lo semplice argento e bronzo perché in quel ruolo avevo lui e metto lui ragazzi quindi giochiamo con questa formazione che a mano a mano in ogni partita si andrà evolvendo e qui oggi giocheremo la prima partita o le prime due partite ora vedo con questa formazione e vediamo appunto ramsey quanti gol farà mentre ragazzi se ramsey non segna non muore nessuno quando avrò tutti i giocatori di bronzo tranne ramsey farò un vero e proprio torneo con quella formazione che poi mi rimarrà con il suo ramsey davanti quindi ragazzi se volete divertirvi seguite questa serie iniziate a spolliciare a lasciare like a condividere a farla vedere agli amici perché da quello che ho visto nessuno ha mai avuto questa idea quindi è una serie diciamo originale non come modo di fare perché anche altri youtubers fanno dei challenge tipo il road to glory nel quale si parte con uno solo eccetera eccetera però nessuno mi sembra mai fatta con ramsey diciamo che va uccidendo i suoi stessi compagni e questa dovrebbe essere una novità assoluta poi non voglio sbagliarmi e ragazzi ci vediamo subito con la prima partita del ramsey death challenge c'è che ragazzi eccoci giunti alla prima partita del giorno l'importante non è vincere ma è far segnare ramsey l'importante è solo per lui perchè per altri giocatori non penso eccolo qua aaron ramsey prova ramsey eccolo niente da fare aaron ramsey diciamo di provare subito un tiro dalla distanza è parata del portiere vittoribarbo per ramsey attenzione ramsey pallonetto sbaglia incredibile ha quasi ucciso il suo compagno ramsey ancora al tiro ramsey gol 1-0 ramsey ha ucciso il primo giocatore della squadra poi decidiamo chi ragazzi poi deciderò io chi così dando comunque già la prima kill per ramsey è arrivata al decimo minuto ramsey fa la sua prima kill barclay 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 è solo barclay gol 2-0 però barclay quindi non ramsey la squadra la segna ma il comune che si salda che è ramsey non ha segnato ed è la seconda kill del giorno ramsey eccolo là ramsey lo vedo ramsey provano a dare in palla vediamo se ci riesco attenzione young 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 no young un miracolo vediamo nulla da fare attenzione ancora di ramsey che ha provato a segnare un altro gol bravo diamo pallone a ramsey vediamo se riesce a fare qualcosa ancora ramsey guardatelo aaron aaron vuole provare il gol non ci riesce poi arriva qui barclay e c'è il 3-0 3-0 vai con risultanza murinello eccolo qua c'è un mostrare la madre ramsey ragazzi guardatelo qui ramsey ecco ha provato lui a segnare doveva killare un altro compagno ma non ce l'ha fatta ramsey ancora guardatelo aaron aaron ancora aaron ancora è solo aaron a tiro deviazione per pochissimo aaron non segna voleva killare ragazzi eccoci gol secondo tempo stiamo vincendo 3-0 ma queste partite l'importante non è vincere come ho detto ma è far segnare ramsey questa è la sua death challenge ora ramsey attenzione che va se ne va ramsey da solo ramsey tira gol doppia kill per lui ragazzi guardate come sfrutta è felice guardate guardate ecco queste alzate le mani al cielo perchè ecco pavete se la prende anche con la bandina anche il lato per la seconda volta tra questi ragazzi quindi siamo a 2 kill nella prossima partita quindi 2 giocatori non ci saranno più però questo tiro qui ma vai nessun problema per il portiere per il mignole è qua ancora ancora barclay guardatelo aaron ramsey attenzione è fuori gioco ma il portiere era già fuori dei pali avrebbe fatto triplete quindi 3 kill per lui se una barclay che da dentro ramsey ramsey eccolo ancora ramsey aaron ramsey al tiro gol tripletta per aaron ramsey ragazzi il cecchino infalibri il killer il killer il killer aaron ramsey il killer 3 gol per lui e quindi 3 uccisioni mamma mia ramsey mamma mia ramsey ragazzi ha proprio voglia di fare stragi quest'oggi viene fermata ancora ma ramsey riparte qui fermato guardatelo troppo guardate palla dentro ancora per lui nulla da fare mamma mia ramsey ramsey guardate parte il giro fuori di pochissimo ramsey vicinissimo alla quarta kill ramsey ragazzi vicinissimo guardate qua come se ne va ramsey mamma mia ramsey mamma mia mamma mia mamma mia ramsey mamma mia ramsey e c'è rigore e c'è rigore ragazzi ramsey potrebbe fare la quarta kill del giorno andiamo ramsey nooo ha capito ha capito che l'avrei fatto il pallonetto e quindi quarta kill mancata quello qua guardate a un ramsey come corre con una gazzella guardate salta salta il difensore mamma mia ramsey vinciati un contrasto guardatelo a non ramsey ragazzi guardatelo ancora ramsey mette tutti a sedere e il pallone attraversa incredibile ramsey ha un soffio dalla sua quarta kill Aaron ramsey ragazzi è scatenato in avanti più forte che a centrocampo sa che ucciderà persone e quindi si è subito messo all'opera ragazzi è un vero è proprio un mietitore andiamo dentro per e vabbè young che prova a segnare qui la si salva la pesata qua se ne va prova a fare non si sa cosa di barba ancora vede lo scatto di Aaron guardate come provoca tassarsi quelli difensori guardate quanto è aggressivo ecco qui ragazzi la partita è finita 5 a 0 e abbiamo la tripletta di ramsey quindi il killer ramsey inizia subito benissimo la sua death challenge con 3 goal e quindi con 3 compagni morti nel prossimo episodio vi farò vedere chi ho messo al posto di chi visto che ho fatto tre decisioni io la deciderò ok ragazzi se questo episodio vi è piaciuto commentate lasciate like condividete mi raccomando ragazzi se non avete fatto iscrivetevi al canale consigliate agli amici fate conoscere questa challenge che a mio parere è molto divertente e se avete delle idee da proporvi nuove che magari altri youtuber sono portato iscrivetevi al canale e vedrò di realizzato ok ragazzi qui da un giorno di 83 è tutto ci vediamo al prossimo video bella